Ciao! Ciao! Ciao campione! Ciao pa! Hai finito in bagno? Sì, sì! La mamma ha fatto l'arrosto, hai visto? Esco ma? Ora? Sì, ora! Ma è proprio stasera che ti ho preparato l'arrosto. E' buono. Te ne conservo un po' per quando torni. Non torno, mamma. Perché? Fra mezz'ora sarò vittima di un incidente stradale. Ah. 3100 vittime di incidenti all'anno non è normale, ma è quello che sta succedendo. Non chiudere gli occhi. La sicurezza stradale riguarda anche te e le persone che ami di più. Grazie. Grazie. Grazie.